I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I am a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rap Si vede, si vede, si vede la scritta qua sopra, Gamer, mamma mia che gamer che sono Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui perché avevo in mente una cosa Allora, di norma, voi non vedete quello che sto facendo io, di norma quando si va su YouTube, no? Luce, accenditi, luce, si è più o meno, più o meno Allora, siamo qui oggi ragazzi perché ho intenzione di portare una serie, probabilmente l'avete già letto dal titolo Però vi dico adesso come mi è venuto in mente Allora, stavo andando a guardare, alcuni io a volte me ne vado su YouTube e vado a guardare dei video Ok, così proprio dal... io per esempio sono un fatidico di... c'è proprio un appassionato di Mate in 2 Non so chi lo conosce, quindi fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi conosce Mate in 2 Non porterò video di Mate in 2, tranquillissimi, non è questo quello che ho in mente Allora, praticamente stavo guardando un video di un ragazzo che si chiama Triforces Plus Se non sbaglio, quante lune droppiamo? Stavo guardando quel video, no? Perché io sono un appassionato comunque di Mate in 2, gli ho lasciato un commentino, scrivendogli simpaticissimi, simpaticissimo, quello che è E quando è finito il video, mi è comparsa una pubblicità Voi direte Dark, e grazie a lui lo sappiamo che le spuntano le pubblicità Sì, ma mi è venuta in mente una challenge che potrei fare Me lo dovete fare sapere voi nei commenti Se questo video dovesse arrivare a 100 like, ragazzuoli Prossimo video porterò la challenge Copia la pubblicità, ok? Allora, vi spiego come funziona Passiamo direttamente alla scena successiva Dove appunto vi faccio vedere Ok, questo è il canale del ragazzo, sicuramente iscrivetevi È uno che porta Mate in, è simpaticissimo Comunque, tralasciando questo, ragazzuoli Allora, ho visto sto video Eh, tranquillo, apposto Finisce il video E, ok, va bene Sì, non è partita la pubblicità, ok Però, praticamente, partono queste pubblicità una volta ogni tanto, no? Quindi, io ho pensato e ho detto Ma perché non copiare le pubblicità? Non copiare nel senso di prenderle e metterle nel mio canale E farci il video da pubblicità, no Io intendo proprio così Siete pronti? Vi faccio un esempio Andiamo a prendere una pubblicità Eh, di, eh, che ne so Pubblicità tipo LOL Ok? Pubblicità di LOL Ehm, tipo questa, no? Ciao, gamer Ok? State vedendo tutti quanti insieme, no? Questa è la pubblicità Ciao, gamer Facciamo un gioco Ipotizziamo che tu scarichi League of Legends in questo esatto momento Ok? Questa è la pubblicità che esce che rompe le balls a tutti quanti Io ho intenzione di replicarle, ok? In modo più, non dettagliato, ma più comico Ok? Tipo Faccio un esempio Tipo 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 Ciao, gamer Facciamo un gioco Ok Ciao, gamer E facciamolo sto gioco Che c***o Ipotizziamo che tu scarichi League of Legends in questo esatto momento Ipotizziamo? Ma proprio ipotizzando che praticamente tu scarichi le Ague of Legends Capito? In questo preciso momento Ok? Ok Inizi a giocarci e ci stai subito in fissa Inizi Incominciando a giocare E ci stai subito in trippa E cioè in fissa Capito? Cioè perché La trippa È buona la trippa La fissa è più Ma Facciamo finta che capisci al volo come funziona Due team composti da 5 giocatori si affrontano per distruggersi a vicenda In una mappa piena di obiettivi e mostri da uccidere Due team che si ammazzano Che si sparano Che si fiondano Che fanno tutte quelle cose E praticamente con i mostri che li uccidono Li fanno Tra le centinaia di campioni disponibili scegli Garen Ti piace? Tra tutte queste i campioni che ci stanno su Le Ague of Legends Ti piace Garen? Ciao fratello Garen E lo usi no? E lo usi Andiamo a Ti piace Garen? Con Garen è facile uccidere gli avversari Con Garen è facile uccidere gli avversari Perché tu lo pigli dal team di Diego Quello abusivo Lo pigli e tu li fai uccidere tutti Capito? Che comunque è qualcosa di pazzesco Non hai bisogno di essere il migliore fin da subito? E perché non hai Non hai Cioè tu Che hai bisogno di essere il migliore di quello di subito? Cioè capito? Perché praticamente Essendo migliore Puoi migliorare grazie alla Coca-Cola Quella la sottomarca Basta che fai Che che Praticamente Migliori No? Capito? Migliori In questo caso Migliorando Si migliorano Poiché il gioco stesso ti posiziona insieme ad altri giocatori del tuo livello E perché praticamente Mi mette con i giocatori dell'altro livello Di altri livelli Evocatore 1 Perché Perché è bello Evocare questi evocatori Evocatrici Evocandoli No? Perché è bello no? E' bellissimo E' bellissimo ragazzi Giocando e divertendoti avrai modo di diventare sempre più bravo Giocare E giocare Perché se tu giochi E' normale che diventi bravo E' E' essendo bravissimo Eh Andiamo avanti Andiamo avanti Meglio così E così vinci la tua prima partita a League of Legends Insieme ad altri quattro sconosciuti E perché tu E scusa E tu giochi a League of Legends E praticamente Vinci la partita con quattro sconosciuti Che c'è che E scusa Io vado a giocare a League of Legends Non è che vado a giocare Cioè Prendo quattro amici E gioco a quattro amici Anche se gioco Però vabbè Quello è l'hashtag Faccaganciata E sui Nei commenti Comunque Continuiamo E' bello Certo Ma ti accorgi anche che affrontare gli avversari con un gruppo di amici E' molto più divertente E' io che ho detto Bah Cioè Ma che cosa ho detto io Ma Mi piglia in giro questo qui Ma che 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 dobbiamo fare Tu potresti giocare il tank Qualcun altro il guaritore Kill arciere L'assassino O il mago Eh E' porca miseria Ci sono tantissimi personaggi L'evocatore L'arciere E' Lo spank Il mago Cioè Ci sono tutti Capito E' più bello E' più bello Poi c'è L'assassino Quello che uccide tutti E quindi Tu ti diverti Cominci a fare le cose Quelle belle E poi vinci le partite Meglio vincerele con gli amici Che con gli sconosciuti Michele sconosciuti Magari dicono Eh guaglio Eh E quando è buono Aiutami E fai quello E fai E quindi uno Aspetta a giocare con gli amici Che è più bello E senza Andiamo avanti Sensazionale Quello Ci sono tantissimi ruoli Che variano in base A come intendi sviluppare Il tuo campione Durante una partita Certo Il tempo passa E inizi a conoscere Il tempo passa E passano le ore E io e te Faremo l'amore E io Ho il tank e il tiratore Gioco sempre A League of Legends Vabbè Dislike per questa cosa Sì puramente Tutti gli altri personaggi Tra cui Lux E le sue dannatissime abilità Dario Eh Lux Vabbè Comunque E le sue Dannatissime abilità Vabbè Ma che c'è Le skill Dannate Questo Lux Ma Con il quale Probabilmente Farai la tua prima Pentakill Eh Cos'è che farai tu La La padella kill Ma che La padella kill Ragazzi Con Lux Si fa la padella kill Mamma mia Ragazzone Ma E' pazzesco La padella kill Ottimo Il più diabolico In assoluto E ti affezioni A questi campioni Unici e particolari Tu C'è Modestamente Ti affezioni A questi campioni E quindi Diventi troppo particolare Euforico E quindi In questo caso Incomincerai più a giocarci Perché questo gioco È troppo bello E quindi Ti prende E ti fa Continuare Ma che è meglio Tutti Tutti con un loro stile Di gioco E una biografia Che racconta La loro storia Nell'universo Di League of Legends Che è brutto Quello è C'è è assurdo Che Andiamo avanti Poi scopri Un'altra caratteristica Del gioco Ovvero Le partite classificate Dove ogni E poi E poi Arrivano le partite Quelle classificate Quelle Scali la classifica Uccidi I mostri La gente Quella brutta E E Fai Una bella win E quindi Sei più soddisfatto Ed è tutto No Perché Il risultato Determina la tua posizione In un sistema Basato sulle Oh Bronzo Il bronzo È il migliore di tutti Più o meno Quello più basso Di tutti Però Argento Argento Mamma mia Ragazzoni Questa classifica È troppo eccezionale Già mi sta piacendo Che è l'agendo Quello Argento Oro 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 Quando Oro Ti darei Io ne voglio tanto Però vabbè Platino Platino Quelle È una classifica Un po' Particolare Platino Perché C'è Platino Ragazzi Andiamo avanti Diamante Ecco già Il diamante Lì Ti vedi Tu C'è Io praticamente Quando penso al diamante Penso Alla canzone Di Michele Zarillo Non lo conoscete Una rosa Blu Sulla pelle Mia Ti ricordi Il diamante Liscio e lungo Con un filo Di follia C'è capito Che 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 Stiamo Dicendo Ragazzi Poi Poi Successivamente Abbiamo il master Che master Ragazzi Master Mamma mia che master C'è Ma si può Ma si può Il master Cioè tu stai lì Ti fai la pentola di pasta Maggi Quello è il master Ragazzi Quello è il master Del master E poi E poi E poi Arriva il challenger Che cazzo c'è C'è uno capisce Che non Non lo sa Quello là E quindi E quindi Dici dark Ma che è sto challenger E' facile Il challenger E' quello lì Che è Praticamente Ecco Questo qua Mi è salito Tutta la Questo qui E' il challenger Perché Il challenger Ragazzoni Io ve lo faccio Capire pure Così Il challenger Ragazzi Il challenger Ce lo dice pure La stessa parola Challenger Cefelle Fengefer Alfabeto Farfallino Non so chi lo conosce Ma chi lo conosce Non è un gretino Intelligen Il cefelle Fengefer Ragazzi E' una classifica Al top Dei top Dei top Dei top Di questi gamer Capito E' bello E' bello E' forte E' sublime E' inarrestabile Capito E quindi E quindi è normale Perché Essendo forte E' forte No E quindi Che cosa Che Beh Va bene Comunque Vi ho fatto vedere Ragazzuoli Tralasciando questo Ho messo Diciamo Tutto me stesso Per riuscire A registrare Questo video Ma non è tanto Il numero Di tempo Che ci vuole Per fare il video E' semplicemente Una cosa divertente Io adesso Probabilmente questo video Lo farò uscire Questo lunedì Cioè l'unica cosa Che vi voglio chiedere È semplicemente Fatemi sapere nei commenti Se i video di questo genere Vi piacciono Perché potrei portare Questa serie Una volta magari Alla settimana Quindi fatemelo sapere Giù nei commenti Se vi piace Se vi fa ridere Se vi strappa un sorriso Un qualcosa del genere Io vi ringrazio Per aver visto questo video Ragazzuoli Fatemelo sapere nei commenti Mi raccomando Ci tengo molto Cento like E vi porto Il prossimo episodio Ragazzuoli Quindi Vi auguro un bacione Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdervi I prossimi video E niente Un abbraccio E sghiera Un abbraccio 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 Un abbraccio